Allora facciamo adesso un salto a Roma e al Ministero e chiamiamo Alessandra Gallone che è consigliera per le politiche dell'innovazione e della sostenibilità del Ministero dell'Università e della Ricerca. Grazie, grazie di cuore. Questo è quello che il Ministero sta facendo con tutte le proprie forze per fare in modo che il grande genio italiano insomma rimanga qui e riparta da qui. Quindi buon compleanno, buon lavoro, oggi è veramente una giornata di festa. Grazie, grazie Giovanna. Grazie a tutti. Questo è un paese così libero che un generale avvende tantissime copie senza avere un editore, quindi figurati, a maggior ragione, è giusto, è bellissimo che i giovani parlino. Abbiamo ampiamente, quindi benissimo, avete fatto bene perché fa parte della vostra libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, avercene, a presentarci il vostro striscione. Abbiamo anche capito di che si tratta, avete avuto una risposta, certo, rapida, ma immagino che poi l'avrete più compiuta, spero che la meritiamo tutti una risposta, che voi ci sollecitate. Adesso lasciate lo striscione come giusto che sia così tutti possono vedere di che si tratta, vi contatteranno per averne i dettagli, la preghiera che vi rivolgo è se vi accomodate perché così consentite a chi è dietro di voi di seguire il dibattito e la nostra giornata. Quindi, benissimo lo striscione, se vi sedete così tutti quanti possono ascoltare quello che diranno i rettori e tutti i nostri invitati. Grazie.